Fino al 12 giugno, appienza la decima edizione dell'Emporio Letterario. Cartellone ricco per la 34esima edizione del Torrita Blues, nella serata di solidarietà la raccolta fondi per i profughi ucraini ospitati dalla Diocesi. A Firenze va in scena lo spettacolo di solidarietà Un fiore per l'Ucraina, appuntamento domenica 12 giugno alle 20.45 al Teatro di Cestello, tanti gli artisti sul palco. Inaugurata a Palazzo del Pegaso, la mostra racconti e suggestioni di Alessandro Gavilli sarà visitabile fino al 18 giugno. A Pienza la decima edizione dell'Emporio Letterario. Una sinergia d'eccezione tra l'amministrazione comunale di Pienza e l'Associazione Culturale Compagnia del Teatro Caffeina per un festival sulla letteratura e sui libri nella cornice unica del Centro Rinascimentale della Val d'Orcia, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1996. Ed è proprio in questo territorio che fino al 12 giugno si terranno presentazioni di libri, lexio magistralis, approfondimenti sul mondo della letteratura, dell'editoria, del giornalismo culturale e di ogni altra forma di espressione artistica. Pienza diventerà una vera e propria cittadella della cultura che coinvolgerà piazze, vicoli, palazzi e cortili della cittadina per creare un connubio costruttivo tra scrittori e cittadini con i piccoli in primo piano. Tra le varie iniziative merita ricordare l'emporio musicale dei piccoli e dei fumetti, quasi un traghettare l'organizzazione dell'emporio letterario di Pienza alle giovani generazioni chiamate a portare avanti un evento che nei dieci anni di vita ha lasciato il segno nella Toscana tutta. All'interno dell'emporio letterario, come in tutte le precedenti edizioni, c'è la ricerca e l'interesse per incontrare i scrittori, i saggisti, letterati in senso generale, c'è musica, c'è presentazione dei libri, ci sono degli interventi interessantissimi anche dei uomini di studiosi, per esempio quest'anno sull'archeologia, quindi c'è un po' di tutto, c'è la musica, ci sono concerti e soprattutto c'è questa sorta di connubio unico tra quelle che sono i cittadini o gli ospiti di Pienza e gli scrittori letterati che vengono e nelle strade di Pienza, nelle piazze, si incontrano e hanno la possibilità di in qualche modo sposare quelle che sono la bellezza dei luoghi con incontri culturali di altissimo livello. Episodio di punta di questa edizione sarà un'intervista dal vivo realizzata da Giorgio Nisini, direttore artistico del Festival, a Giovanni Allevi, uno dei compositori italiani più apprezzati, che sarà in Val Dolce il prossimo 11 giugno alle 21, nello scenario della Cappella della Madonna di Vitaleta, una serata davvero speciale tra parole, suoni e bellezza del paesaggio. Quest'anno è un anno un po' particolare, un po' speciale, definiamolo così, visto che sono i dieci anni, dieci anni dell'emporio letterario e su questo abbiamo investito molto anche quest'anno. I nomi che trovate nel programma sono di assoluto livello, a cominciare da Giovanni Allevi per il suo chiacchierata concerto o anche con Zaki Awas, che è forse il maggiore esperto di egittologia, scoperte appunto di Egitto, e più i vari nomi dell'emporio letterario che sono stati messi insieme. Dicevamo prima anche con gli altri nostri amici, è una stagione un po' particolare, ripartiamo dopo due anni, come tutti sappiamo, di situazioni molto complicate e molto difficili, ci sono molte attività anche culturali, tantissime, che stanno riprendendo in questo periodo, per cui è stato veramente difficile riuscire anche a, come dire, distinguere tra le varie offerte, tra le varie proposte, quali potessero essere più idonei appunto per un decennale come questo del Festival. È un'iniziativa davvero bella che pone al centro il tema della cultura, vista a 360 gradi. Noi conosciamo tutti Pienza per essere un gioiello prezioso della nostra regione, uno dei luoghi più incantevoli. Però Pienza non è solo arte e bellezza, Pienza è anche terra di cultura e questa tre giorni è un modo per tenere insieme a Lettio Magistralis la possibilità di confrontarsi con gli artisti più importanti del nostro tempo, un modo per apprendere e per cercare di attualizzare. Viviamo un tempo complesso, non siamo stati più abituati da un anno e mezzo ad iniziative, eventi che siano sul territorio, ci facciano ritrovare. È tempo di ascoltare ma è tempo anche di cercare di anticipare quello che sarà. E allora questi giorni saranno giorni importanti non solo per Pienza ma per tutta la Toscana. Dal 23 al 25 giugno Torrita di Siena è la capitale del blues. Compleanno speciale per il Torrita Blues, il festival arrivato alla 34esima edizione accenderà il cuore di Torrita di Siena dove si svolgerà dal 23 al 25 giugno nella splendida cornice di piazza Matteotti. Si comincia con una serata di solidarietà a cui parteciperanno i profughi ucraini ospitati dalla diocesi con la cena in piazza e una raccolta di fondi. Ad accompagnare la prima serata anche le semifinali nazionali dell'Italian Blues Challenge. Venerdì 24 giugno l'ospite d'onore sarà Alex Britti che farà tappa nel borgo toscano sabato alla grande chiusura. Si inizia con una serata di solidarietà perché ci sarà la classica scena in piazza con ospiti dei profughi ucraini che sono in diocesi. Oltre a questo ci saranno anche le semifinali nazionali dell'Italian Blues Union. Si passa poi al venerdì dove abbiamo come ospite un grande nome Alex Britti preceduto anche da una band italiana, non lo sono lombardi, Czech Franceschette e The Stompers. Sarà anche questa una piccola chicca che aprirà il concerto di venerdì. Sabato io la definisco una seratona perché da tanto tempo che aspettiamo questi artisti inizieranno due grandi performer inglesi. Uno è Paul Lamb, un armonicista, uno dei più importanti nella scena musicale inglese. Dopo ci sarà ovviamente Keith Fletcher che è uno degli emergenti più volte nomination ai Blues Grammy Award. Viene con la band originale americana e quindi sarà veramente un grande spettacolo. Sia al venerdì ovviamente per sentire Alex in una situazione molto Blues direi perché ritorna alle origini e poi ovviamente il sabato ci dirà con questi due grandi artisti internazionali. 34esima edizione, il Comune è sempre stato dalla parte del Blues in tutti questi anni e stiamo allestendo come sempre un bel palco, una bella copertura e la nostra piazza Matteotti saprà accogliere queste tre giornate interessanti. Anche la prima che è fuori programma da un certo punto di vista ci sarà una scena pro-ucraina con anche le semifinali dell'Italia Blues Union. Poi la serata forse club per i meno esperti del Blues è quella con Alex Britti, quindi la serata del venerdì e poi invece sabato si concluderà il 34esimo edizione con una serata più di nicchia dove esperti di Blues sapranno sicuramente ascoltare questa musica tanto cara al nostro territorio. Una realtà molto consolidata quella del Torita Blues è che richiama appassionati non solo dall'Italia ma da tutto il mondo. Il Torita Blues è una realtà molto consolidata nel territorio di Torita e di tutta la Valdichiana ma non solo. Ha richiami di appassionati della musica blues non solo da tutta Italia ma anche da tutta Europa e tutto il mondo. Nel 2016 è stato ospitato a Torita di Siena le finali europee del Blues che ha visto partecipare artisti di 22 paesi europei e che comunque è stata una manifestazione bellissima ma che ogni anno si ripropone con artisti di fama nazionale ed internazionale per tre giorni di bella musica, cultura e intrattenimento e anche temi sociali. Viene sempre fatta anche una cena dove quest'anno insomma il tema è ovviamente l'Ucraina e in caso sarà devoluto agli ucraini tutti i richiedenti aiuto e c'è sempre anche uno scopo molto sociale. È una bellissima manifestazione dove la musica fa da protagonista e insomma io invito tutti a partecipare al Torita Blues dal 24 al 26 giugno. Un fiore per l'Ucraina Una sorta di contrapunto della bellezza al disastro che la guerra in Ucraina sta provocando, un modo per tenere alta l'attenzione su questi terribili eventi e per far sentire la presenza della comunità toscana anche ai cittadini ucraini giunti sul nostro territorio. Questo è il senso dell'iniziativa di beneficenza Un Fiore per l'Ucraina, lo spettacolo organizzato dalle associazioni Altrove Teatro e da Un Fiore per la Fortezza col patrocinio del Consiglio regionale che si tratta domenica 12 giugno alle 20.45 al Teatro di Cestello. Scopo dell'evento è quello di raccogliere fondi da destinare a medicinali e generi di prima necessità per la popolazione gravemente colpita e sofferente per le conseguenze della guerra. Questo evento nasce come un'occasione di solidarietà, di spettacolo e di accoglienza. È una cosa che è stata pensata insieme a Serena Vavolo, presidente di Un Fiore per la Fortezza, Altrove Teatro e ad altre otto associazioni fiorentine per creare appunto un momento di solidarietà ma anche di accoglienza. Questa serata parteciperanno infatti alcuni ragazzi, giovani, bambini con le famiglie che sono ospiti a Firenze. Chiaramente stiamo parlando di cittadini ucraini che sono in questo momento ospitati a Firenze e poi il ricavato della serata, quindi i biglietti, andranno a sostenere l'invio di medicinali e generi di prima necessità per la popolazione ucraina dove sappiamo che manca praticamente tutto. Io ho parlato anche con la responsabile del Consolato onorario ucraino a Firenze e con ECA, cantautrice ucraina, che sarà presente nella serata e mi hanno raccontato molto di più di quello che sappiamo dall'informazione e dai media e anche di quello che realmente manca, non hanno acqua, non hanno elettricità, non hanno ovviamente medicinali. Gran parte della sanità in Ucraina è stata cancellata, annientata, quindi è importantissimo riuscire a fare qualcosa e questo è il primo scopo. Il secondo appunto è quello attraverso la bellezza, l'arte, la musica, la magia di portare un ponte che sia di pace, un ponte di fraternità italiani e ucraini insieme e quindi ricreare una serata anche di serenità. Sul palco si alterneranno diversi artisti che presteranno la loro opera gratuitamente. Michele Pecola, ECA, Silvia Vavolo, la band Mighty Apple, il prestigiatore Mattia Boschi. In sala tra il pubblico tanti cittadini ucraini che Firenze ha accolto. Per l'occasione sarà possibile acquistare un biglietto sospeso proprio per i cittadini ucraini. È uno spettacolo importante, è bellissima l'idea del biglietto sospeso, io ne acquisterò senz'altro almeno uno, invito tutti a farlo e a partecipare perché dobbiamo far sentire la nostra voce. Come vedete la legge della comunicazione è spietata e già la guerra occupa le colonne esime dei quotidiani, almeno non ci siano fatti eclatanti, sembra quasi che non ci sia più, ma la guerra in realtà c'è, sta andando avanti, il popolo ucraino sta soffrendo e dobbiamo necessariamente tenere altra la nostra attenzione su questo momento. Farla con la cultura e con lo spettacolo, che sono reduci da due anni di forte prova con la pandemia, perché è un settore di attività questo che ha subito pesantemente i danni delle restrizioni dovute al Covid, è altrettanto bello, significativo e per noi importante. Racconti e suggestioni in mostra. Un artista coraggioso è un caro amico che attraverso le sue opere scava nei sentimenti e nei valori profondi e antichi dello spirito umano. I suoi quadri sono un intreccio virtuoso di cavalieri medievali, animali chimerici, volti che emanano una forza interiore straordinaria e sconosciuta, a cui fanno da cornice naturale, allo stesso tempo fantastica, giungle metropolitane o suggestivi scorci della cortona millenaria. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, ha presentato il pittore cortonese Alessandro Gavilli, autore della mostra racconti e suggestioni inaugurata presso lo spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso. Fratellanza, Re Covid-19, Maternità, Terzo Mondo, sono alcuni dei titoli delle 20 opere esposte che attraverso il bianco e il nero e tocchi sapienti di colori riescono a evocare una sintesi metafisica e simbolica tra vita e sogno, mito e realtà. Credo che uno dei fili conduttori sia proprio qui davanti, la fratellanza. Il tentativo dell'artista di scavare a fondo i sentimenti, i valori, specialmente in un periodo così delicato, infatti un'altra opera è proprio relativa al Covid-19. È uno studiare, un meditare lo spirito umano, ritrovare i valori che sono profondi, che sono antichi, come la nostra cortona da cui proveniamo sia io che l'artista e che oggi riceve qui a Firenze un bel segnale anche di attenzione per il nostro territorio. Questo palazzo continua ad aprirsi verso l'esterno e lo fa oggi accogliendo uno degli artisti cortonesi di cui sono più legato anche dal punto di vista umano perché ecco ci piace passare del tempo insieme, sono un amico di Alessandro e sono veramente contento che oggi la sua arte, il suo lapis sia protagonista di questa mostra in consiglio regionale. Come avrebbe detto l'autore stesso nel corso dell'inaugurazione della mostra, le opere vogliono raccontare delle storie umane, dei sentimenti su cui è sempre più necessario riflettere in un momento in cui siamo abituati a concentrarci soprattutto sulle nostre piccole incombenze quotidiane. Ho cercato di dare il meglio per quanto riguarda il pensiero, quello che uno può trasmettere alle persone e tutto quello che disegno, tutto quello che faccio come ad esempio Africa che rappresenta la tragedia dei profughi oppure chiaramente Fratellanza oppure il Covid-19 ma ce ne sono anche altri come il Torologo, raccontano delle storie, delle storie umane in cui ognuno si può rappresentare e riflettere perché al giorno d'oggi manca molto la riflessione, le persone sono molto più legate al vedere, al mangiare e fuggire, invece c'è bisogno di pensare, di riflettere e di ascoltare. La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno. La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno.